Allora, benvenuti insomma nell'annualità 2013, la scuola media per le vacanze con le classi seconda e terza della sezione G. Appunto si fanno l'onore proponendosi ad una selezione per cori al Teatro San Carlo, diretto a tutte le scuole d'Italia. Un vostro in bocca al lupo, io che sono la loro insegnante di musica curriculare e l'oprente, sono fiera perché in pochissimo tempo hanno realizzato questo che ora ascolteremo. E voglio dire, con il tema obbligatorio dato proprio dal concorso in concomitanza con il bicentenario della nascita di Verdi, bisognava portare appunto dei brani tratti dal repertorio operistico di Verdi. E quindi la mia scelta è ricaduta su due brani tratti dalla tua carta e sarebbero Noi siamo Zotarelle e Mattador. Poi invece il terzo brano, scelta a tema libero, su Rossini la danza. Buon ascolto. Ah, la particolarità, la cosa più bella e più grande è che sono tutti dai 12 ai 13 anni e il nostro grande pianista è appunto Antonio che è un loro compagno della stessa classe. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Già la luna e mezza mare mamma mia salterà, l'ora è bella per danzare che l'amore non mancherà. Già la luna e mezza mare mamma mia salterà, l'ora è bella per danzare che l'amore non mancherà. Già la luna e mezza mare mamma mia salterà, l'ora è bella per danzare che l'amore non mancherà. Un cajon bell'euro quando c'è scusa toccherà, finché c'entri la vostra stella e la luna spenderà, il più bello la più bella tutta la notte danzerà. Mamma mia mamma mia salta l'ora è bella per danzare, mamma mia mamma mia mamma mia salterà. Brinche, 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 mamma mia, si date a Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.